E' stata un'aula molto particolare, quella in cui un centinaio di studenti del Luzzati e del Giannini di Chiaveri hanno svolto la lezione introduttiva legata alla Tiguglio Design District, la terza edizione dell'iniziativa che si svolge nella riviera di Levante in concomitanza con la Milano Design Week. La rotonda della passeggiata a mare di Levante di Zoaglia, ospitato il primo step del workshop Design tra terra e mare, in cui gli studenti sono stati chiamati a mettere in gioco la loro creatività per rendere più bello il territorio. Il designer è un ruolo che permette di risolvere dei problemi a favore di tutti noi cittadini e delle persone che vivono sul territorio. Quindi è stato chiesto di analizzare con dei tutor d'eccezione e speciali quello che possono essere le idee da apportare nelle nostre città e non solo. Il frutto del lavoro dei ragazzi sarà presentato il prossimo 21 aprile nell'aula magna degli Ceruzzati. Tanti poi gli appuntamenti della Tiguglio Design Week che entreranno nel vivo a partire da sabato. Ci saranno tante attività coinvolgendo il territorio, arriveranno 30 professionisti da Shanghai che vedranno le nostre realtà. Vi sarà l'inaugurazione della mostra sulla sedia leggera di Chiavari questo sabato alle 17.30 all'ex laboratorio Guido Anna Rocca di Chiavari. Quindi tante iniziative legate al design e al territorio. L'associazione culturale Liguria Design, organizzatrice e promotrice del Tiguglio Design District, ha ottenuto il patrocinio della regione, di città metropolitana di Genova, della Camera di Commercio e quello di tutti e sette i comuni costieri del Tiguglio, da Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. Nel mio intervento ho spiegato la fortuna di vivere in questa grande bellezza. Perciò loro hanno nel DNA, nel loro imprinting nativo, già una cosa bella. E grazie a questa bellezza sanno riconoscere più di altri una cosa brutta. Perciò dovendo essere persone che dedicano al design, che segue la bellezza oltre alla praticità, alla funzionalità, è un valore aggiunto che loro devono non sottovalutare. Ho chiesto ai ragazzi un aiuto per ripensare ai contenitori getta carta o a qualche pensiero sulle campane del vetro, che sono elementi del paesaggio che dobbiamo gestire in maniera efficiente, sostenibile, ma anche bella. Quindi chiediamo di essere custodi della bellezza e come designer trovare soluzioni anche nuove.